Le perle sono gioielli delicati e affascinanti, amati per la loro bellezza senza tempo. Tuttavia, per preservare la loro lucentezza e valore, è essenziale prendersi cura di esse in modo adeguato. In questa guida completa, esploreremo i modi migliori per pulire e prendersi cura delle tue preziose perle, garantendo che rimangano luminose e splendenti nel corso degli anni. L'importanza di pulire le perle regolarmente. Pulire regolarmente le perle è fondamentale per preservarne la bellezza e la brillantezza. Le perle possono accumulare olio, sudore e sporcizia nel corso del tempo, opacizzandone la superficie. Pulire le perle regolarmente aiuta a prevenire la formazione di uno strato opaco e a mantenerle splendenti. Materiali delicati da evitare. Quando si tratta di pulire le perle, è fondamentale utilizzare materiali delicati per evitare danni. Evita l'uso di spazzole dure, detergenti aggressivi o strumenti abrasivi. Questi potrebbero graffiare o danneggiare la superficie delle perle. Pulizia con un panno morbido e umido. Una delle migliori pratiche per pulire le perle è utilizzare un panno morbido e umido. Bagnalo leggermente con acqua tiepida e strofina delicatamente le perle per rimuovere lo sporco accumulato. Assicurati di asciugare le perle con un altro panno morbido e pulito. Evita l'esposizione a sostanze chimiche. Le perle possono essere sensibili alle sostanze chimiche aggressive presenti in prodotti per la cura della pelle, profumi e prodotti per capelli. Assicurati di indossare le tue perle dopo aver applicato tali prodotti e evita il contatto diretto con sostanze chimiche che potrebbero danneggiarle. Conservazione adeguata delle perle. La conservazione corretta è altrettanto importante quanto la pulizia. Conserva le tue perle in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore. Puoi anche avvolgerle in un panno morbido o in un sacchetto di velluto per proteggerle dai graffi. Consulta un gioielliere professionista. Se hai perle di valore eccezionale o hai dubbi sulla loro pulizia, è consigliabile consultare un gioielliere professionista. Saranno in grado di fornirti consigli specifici in base al tipo di perle che possiedi. Qual è il miglior modo per pulire le perle in caso di macchie, asterisco? Se le tue perle presentano macchie ostinate, è meglio lasciare la pulizia a un professionista. Evita di utilizzare rimedi fai date aggressivi che potrebbero danneggiare ulteriormente le perle. Posso usare sapone per la pulizia delle perle? È consigliabile evitare l'uso di sapone per pulire le perle. Anche il sapone delicato potrebbe lasciare residui sulla superficie delle perle, opacizzandole nel tempo. Quanto spesso dovrei pulire le mie perle? In genere, è consigliabile pulire le perle ogni volta che le indossi. Questo aiuterà a prevenire l'accumulo di sporco e oli sulla loro superficie. Posso usare una spazzola morbida per pulire le perle? È meglio evitare l'uso di spazzole morbide, poiché anche queste potrebbero graffiare la superficie delle perle. È preferibile utilizzare un panno morbido e umido. Le perle finte richiedono la stessa cura? Anche le perle finte dovrebbero essere trattate con delicatezza durante la pulizia. Tuttavia, potrebbero richiedere meno attenzione rispetto alle perle genuine. Qual è il modo migliore per conservare a lungo le perle? Per conservare a lungo le perle, mantienile lontano da fonti di calore e luce diretta del sole. Conservale in un luogo fresco e asciutto, a volte in un panno morbido. Le perle sono gioielli preziosi che richiedono cure e attenzioni specifiche per mantenerle splendenti nel tempo. Seguendo le pratiche di pulizia e conservazione consigliate, potrai godere della bellezza senza tempo delle tue perle per molti anni a venire. Ricorda sempre di trattarle con delicatezza e, se necessario, consulta un esperto gioielliere per consigli personalizzati.